Centro Ufficio, Viale Teseo Tesei a Porto Ferraio. L'attore di salute serve per far vedere a tutti che i ragazzi possono cambiare radicalmente la loro vita e possono riflettere su quello che è il senso della vita e quello che vogliono del loro futuro. Le dipendenze sono un problema molto grosso che va affrontato assolutamente nell'età in cui è più facile cadere preda di esse e quindi è necessario che i ragazzi riflettano e che capiscano che veramente si può cambiare. I ragazzi del Cerboni, sia normodotati che diversamente abili, hanno collaborato affinché tutto questo potesse far vedere che il mondo è bello per tutti e che c'è uguaglianza e amore assolutamente per tutti. Questo è un messaggio importante e è proprio dai ragazzi che deve partire. La rappresentazione rientra nel progetto Educazione alla Salute, di cui è referente la professoressa Rita Matacera ed è interamente finanziato dall'ASL. Prezioso è stato anche il contributo dei professori Gennaro Squillace, Maria Placentino, Nicola Di Mauro, Pasquale Papaianni e Ilaria Chirici. È stato un incontro e un mix sia di esperienze, di provenienze, di ragazzi diversi e abbiamo cercato di coagulare il tutto, quindi attribuire a ciascun ragazzo un personaggio. Un personaggio che a volte si rispecchia con una personalità che alcuni di loro avevano prima e quindi l'hanno portata in scena con la capacità di dire io ero quel personaggio. Sicuramente si sono ispirate al teatro danza che è una forma nuova, una forma un po' di teatro contemporaneo come adesso va in voga in tutti i teatri del mondo. E cosa succede? Che è l'utilizzo della musica insieme alla danza, non è altro che buttare fuori le espressioni, le emozioni del corpo e spesso e volentieri proprio in queste situazioni escono fuori quei personaggi ma soprattutto quegli esseri interiori che a volte noi non pensiamo mai.